Buona domenica dalla redazione di Icaro Tg e bentrovati al nostro Megavin che ripercorre la settimana tramite alcuni dei nostri servizi, una settimana caratterizzata ovviamente dal post voto, da questo voto che ha dato dei risultati per certi versi sorprendenti, ovvero un successo del Movimento 5 Stelle, anche in molti comuni riminesi una sostanziale tenuta del PDL e invece un voto che per il PD, per il centro-sinistra anche a livello locale apre a delle grosse riflessioni. Noi ovviamente abbiamo seguito lo spoglio, abbiamo raccolto anche i commenti a caldo dei quattro parlamentari riminesi eletti per la Camera, non ce ne sarà per quanto riguarda questa legislatura nessuno al Senato, comunque noi lunedì sera avevamo raccolto le voci di Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, raggiunta proprio durante la festa del Movimento in Piazza Cavour a Rimini e poi per il PD Emma Petitti e Tiziano Arlotti e per il PDL Sergio Pizzolante che invece sono intervenuti nei nostri studi. Ascoltiamo. Ci sentiamo entusiasti, sorpresi e felici perché stiamo scrivendo in questo periodo una pagina di storia, oggi è veramente una giornata memorabile per tutti noi e per tutti i cittadini italiani, anche coloro che non ci hanno votato perché il nostro cambiamento lo porteremo per l'Italia intera e per tutti, quindi non soltanto solo per i nostri elettori. Siamo felicissimi perché è la dimostrazione che davvero un cambiamento deve iniziare, che questo virus si sta espandendo, è un virus benefico e siamo già proiettati a pensare al grosso lavoro da fare in Parlamento. Penso che il miglior modo per rispondere siano i fatti e le azioni e non le parole, quindi chiedo a tutti di verificare puntualmente, di controllare il nostro lavoro perché solo quello sarà il modo per capire davvero chi è e cosa fa il Movimento 5 Stelle, a prescindere da ogni parola detta in questa campagna elettorale. In questi 15-16 mesi noi ci siamo assunti una responsabilità e sappiamo bene che il Paese ha vissuto e sta vivendo un profondo disagio, un profondo disagio che ha portato anche ad intravedere in una forza politica come il Movimento 5 Stelle una forza che potesse interpretare maggiormente questo disagio e questo credo che sia avvenuto erodendo consenso in parte anche al centro-sinistra ma erodendolo anche al centro-destra e poi si vede anche a macchia di leopardo sul territorio, dove c'è maggiore presenza nostra questo è venuto, addirittura se non vado in rante i dati mi dicono che il Movimento 5 Stelle sia il primo partito nelle Marche, tra le altre cose in provincia da noi abbiamo al Senato circa 4 punti di differenza, noi abbiamo più del 32% rispetto al Movimento 5 Stelle ma indubbiamente il Movimento 5 Stelle ha avuto un risultato, personalmente io avevo previsto che era stato sottostimato a Rimini, nel 2001 io ero stato il più votato in Consiglio Comunale, non fui il cosiddetto consigliere anziano perché Forza Italia aveva avuto più consensi del partito allora della lista dell'Ulivo, eravamo PD e Margherita scusate e quindi già allora c'era stata una maggioranza anche di un'altra forza che era quella del centro-destra nel nostro territorio e allora eravamo stati indietro, oggi comunque al di là di questo risultato noi siamo il primo partito. Io credo che, ripeto, gli elettori del Grillini in questo momento non rappresentano un corpo unitario, rappresentano un segnale alla politica e al Paese e su questo fronte ci siamo anche noi come Partito Democratico, cioè la politica deve essere molto chiara nell'essere sobria e nel parlare di contenuti, crediamo che su questo fronte qui abbiamo fatto delle scelte di merito perché il nostro programma parla chiaro al Paese, penso che si possa anche ragionare su alcune questioni. Ripeto, nel merito delle questioni, ho sentito che Grillo in questi minuti sta parlando di non faremo mai inciuci con nessuno, noi non abbiamo mai chiesto o voluto fare inciuci con nessuno, noi vogliamo parlare di questioni che riguardano il futuro del Paese, ci preoccupa l'ingovernabilità perché crediamo che in questo momento non serve ingovernabilità, anzi serve un governo che possa dare risposte immediate al Paese. Il mio invito è però ad essere anche responsabili perché poi quando si parla di questioni politiche e amministrative è giusto non cavalcare solo la protesta, in un momento come questo anche il populismo, la demagogia è facile poterla utilizzare, è molto più difficile a volte trovare gli equilibri legati alla risoluzione dei problemi, mi piacerebbe che su questo fronte in modo molto chiaro e in modo molto trasparente ci possa essere un confronto. Quando un italiano su tre nella provincia di Rimini e un italiano su quattro in tutto il Paese vota per un personaggio antidemocratico, antimoderno che ha una visione antica, diciamo, no TAV, chilometro zero, buttiamo le bombe sul Parlamento, la mafia è meglio lo Stato, è una sconfitta per tutti. È evidente che ha perso chi sembrava dovesse stravincere, il Partito Democratico e la sinistra aveva la vittoria in mano, dopo le primarie era 10-15 punti davanti al centro-destra e molto di più davanti a Grillo, è riuscita nell'arco di un mese o un mese e mezzo a mettere a rischio questa vittoria. Un mese fa noi eravamo 10-15 punti dietro, siamo arrivati ad un'attaccatura dal centro-sinistra, dopodiché non dico abbiamo vinto noi perché mi spaventa il fenomeno Grillo e tutti dovremmo riflettere e ragionare su questo fenomeno e sull'impatto che ha non sulla politica ma sulla democrazia italiana, quindi nessun grido di vittoria. Questo ovviamente le voci raccolte lunedì sera in un dibattito che poi è proseguito e proseguirà. Questa è stata anche una settimana storica per la Chiesa perché si è completato quanto annunciato nei giorni scorsi da Papa Benedetto XVI, la sua rinuncia al pontificato. Sono stati tanti i riminesi che mercoledì sono stati a Roma per l'ultima udienza in piazza di Papa Benedetto e tanti anche quelli che invece mercoledì sera hanno riempito la basilica cattedrale per la messa che è stata voluta appunto dalla diocesi per pregare per Papa Benedetto e anche per il suo successore. Allora noi abbiamo anche raccolto oltre all'Omelia del Vescovo Lambiasi anche le voci di alcuni rappresentanti del mondo cattolico riminese. Papa Benedetto non ha voluto anteporre nulla a Cristo, neppure la propria vita, neppure la propria persona. Che il Supremo Pastore gliene renda merito, che la memoria del suo alto Magistero e della sua limpida testimonianza evangelica ci ritorni in benedizione. Grazie Signore Gesù, grazie Papa Benedetto. Un grazie corale, quello che ieri sera si è elevato dalla basilica cattedrale di Rimini per Papa Benedetto. Il suo pontificato, ha detto il Vescovo Lambiasi, è stato un dono inestimabile della cui preziosità e fecondità forse ci renderemo conto solo più avanti. Oltre un migliaio ai fedeli presenti, un'assemblea commossa e partecipata in cui continuavano a vibrare le parole che il Papa ha consegnato al mondo nell'ultima udienza di ieri. Quando diceva qui vedo questa chiesa viva. Io stasera qui in Duomo ripensavo a quelle parole. La chiesa è questo, cioè la chiesa sono veramente persone che possono dire ogni giorno di sia Cristo perché è Cristo che viene incontro. Ha lasciato un grande insegnamento di libertà, di come la fede, una grande fede che conduce alla libertà. E questo davvero è un grande insegnamento, una grande testimonianza per tutti quelli, e questa è una mentalità abbastanza diffusa nella cultura di oggi, che pensano che la fede sia invece una costrizione. Io vorrei proprio sottolineare questo dell'eredità del nostro Papa. L'amore, la passione, la dedizione, lo zelo per tenere riunita la sua famiglia, per tenere unito il gregge. Io gli auguro che sia sereno come è stato sereno sino adesso. È difficile di augurargli di più della serenità. E queste erano le voci raccolte nella veglia di giovedì sera, non mercoledì, per correttezza cronologica. Giovedì è una giornata caratterizzata anche da episodi fatti di cronaca come questa operazione dei carabinieri di Rimini che hanno messo fine a una brutta vicenda di prostituzione legata a una minore. Vediamo di cosa si tratta. Era la zia, sorella della madre, a gestire il suo profilo sul sito di Escort per pubblicizzarla con le foto scattate nel salotto della casa di Marebello. Lucica Neiku, 34enne, era arrivata in Italia insieme al marito Marin Neiku, 43 anni, negli anni 90. Anche lei si prostituiva e quando nel 2009 è arrivata la giovane nipote, allora 15enne, orfana di padre, l'hanno vista da subito come una gallina dalle uova d'oro. Durante un normale controllo dei vigili urbani nel pomeriggio del 12 dicembre 2012, la macchina sulla quale i tre viaggiavano è stata fermata. Un vigile ha riconosciuto la ragazza, l'aveva vista prostituirsi in strada. I carabinieri l'hanno rintracciata su viale Regina Margherita, ha spiegato di vivere con gli zii e di fare la prostituta. Erano proprio loro ad accompagnarla in strada. Lo zio risultava disoccupato, mentre la zia, collaboratrice domestica presso una famiglia riminese, con un compenso di 800 euro mensili. Ma questo particolare apre un altro scenario inquietante. In realtà, nemmeno lei lavora. Si è invece fatta firmare un contratto fittizio come badante da un pensionato riminese di 60 anni che si è invaghito di lei. Anche il primo cliente della ragazzina, quando aveva 15 anni, era stato un 55enne, vecchio contatto della zia. Quella volta, però, la ragazzina non riuscì a concedersi. A quel momento in poi la fanno sentire da un'annullità perché non riesce a trovare un impiego e le fanno il lavaggio del cervello per convincerla che la via della prostituzione è la via più comoda per fare soldi. Lei, alla maggiorità, accetta questo patto scellerato e comincia a prostituirsi in strada. La svolta, domenica mattina, quando la ragazza ha chiamato i carabinieri in lacrime dicendo di essere stata appicchiata dagli zii perché non soddisfatti dell'incasso, 10.000 euro a settimana. Erano arrabbiati perché lei è giovane, può chiedere di più, e poi non deve intrattenersi con i clienti per più di un quarto d'ora. I carabinieri l'hanno portata in ospedale con lividi sulla schiena e sul viso, sette giorni di prognosi. I due aguzzini si trovano nelle carceri di Rimini e Forlì con le accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile, aggravate dal vincolo di parentela. E sempre giovedì a Bellariva ci sono stati momenti di alta tensione quando un uomo con dei problemi psichici si è barricato in casa con delle armi, sono intervenute sulle forze dell'ordine e dopo le trattative delicate in questi casi si è riusciti a sventare ulteriori rischi. Vediamo. La madre ottantenne ha detto ai carabinieri che suo figlio, 41enne, da un po' di tempo era diventato ossessivo. Oggi è andato su tutte le furie perché pensava che gli avesse rubato 50 euro. Allora ha preso una pistola e gliela ha puntata in faccia. La donna è scappata e ha chiamato i carabinieri. La pistola era una scacciacani senza tappo rosso, ma in casa c'erano anche delle armi vere, tre fucili da caccia di proprietà del padre defunto custoditi in una teca che è stata trovata aperta. Dopo un'ora e mezza di negoziati al telefono con i carabinieri, l'uomo si è consegnato dicendo di essere stufo, di essere trattato come un bambino dalla madre che lo segregava in casa. Nella stanza dell'uomo, arredata come quella di un adolescente, sono state trovate tracce di cocaina e una carabina sul letto. Durante le operazioni stamattina è stata anche evacuata una vicina scuola per precauzione. La famiglia ha gestito per anni un hotel, il fratello è sacerdote a Roma. Il 41enne è in carcere a Rimini per rapina a mano armata. Lasciamo la cronaca per parlare di turismo, perché per rilanciare il territorio bisogna puntare davvero su tutto, anche dei settori in crescita come quello del turismo legato al golf. La provincia ha presentato un protocollo insieme ai comuni di San Giovanni, Mariano e Verucchio, appunto per rilanciare questo settore. Si punta anche sul golf per sviluppare il turismo sportivo e di qualità. Un settore che nonostante due impianti sul territorio a San Giovanni, Mariano e Verucchio stenta a svilupparsi. Necessario dunque fare sistema per far crescere le risorse golfistiche esistenti in attività turistica in grado di raggiungere gli standard minimi per poter affrontare un mercato che ha proprie peculiarità. Abbiamo voluto firmare questo protocollo di intesa per mettere in campo tutta una serie di azioni, ovviamente anche insieme alle due strutture che gestiscono i golf di San Giovanni e Verucchio, per provare a fare qualche azione promozionale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per valutare se vi è l'opportunità di raggiungere o comunque aumentare sicuramente un numero di turisti importante che praticano questo sport. Il golfista ha una presenza media di sette giorni contro i quattro del classico turista, una capacità di spesa medio alta a viaggia con famiglia che richiede divertimenti e luoghi da visitare. Le due strutture contano oggi, divisi in maniera quasi equa, meno di 600 soci e 15.000 presenze annue, numeri ancora lontani per poter essere considerati rilevanti nel flusso turistico. Un settore, quello del golf, è preso poco in considerazione fino ad ora anche dagli albergatori. Dare la possibilità anche agli operatori alberghieri di capire che questo è un canale possibile che può ampliare di molto l'offerta, può ampliare di molto quindi la capacità di ricevere turisti in periodi dell'anno che sono di bassa stagione. E quindi c'è veramente un mondo su cui lavorare, anche perché Rimini è sede di aeroporto e siccome i golfisti vengono dalle più diverse parti del mondo, questo potrebbe essere un grande valore aggiunto anche per l'aeroporto stesso. E visto che stiamo per entrare nella settimana della festa della donna, chiudiamo con la presentazione ufficiale degli eventi in provincia di Rimini appunto per l'8 marzo, 8 marzo ma non solo, un calendario che deve fare i conti con i bilanci dei comuni sempre più ristretti e che arriva comunque in un momento particolare anche nel rapporto tra donne e politica in Italia e così torniamo al tema con cui abbiamo aperto le elezioni. Un 8 marzo che arriva all'indomani di un voto che ha visto vincere le donne. La rappresentanza femminile alla canna è salita dal 20 al 32% al 30% in Senato. Un risultato importante ma anche una responsabilità per le parlamentari. Io ritengo che grazie a questa forza le donne se fanno, se hanno come dire l'accortezza e l'intelligenza di fare alleanze trasversali riusciranno sicuramente ad avere eccellenti risultati a prescindere dalle maggioranze che possano governare il Parlamento. Tra gli eventi la mostra Donne in Arte dell'Adriatico dall'1 al 10 marzo a Palazzo del Podestà di Rimini. Il 22 marzo a Santa Giustina una rappresentazione dell'incendio dell'8 marzo dell'11 in cui morirono 146 operai e nell'open space NFC in via 20 settembre a Rimini una collettiva di artisti della quadreria solidale di Heartquake per sostenere le famiglie terremotate in Emilia. Anche quest'anno tanti appuntamenti nonostante le difficoltà soprattutto per i comuni dell'Alta Valmarecchia a corto di fondi causa neve. Ho fatto un appello a tutte le associazioni comuni presenti perché ci sia la disponibilità di tutti a partecipare e condividere iniziative con i comuni che non avranno le risorse per portarle avanti assolutamente in modo gratuito perché comunque ogni città, ogni paese si soffermi a riflettere sulla giornata internazionale delle donne. A margine un paio di punte polemiche. Il coordinamento Donne Lamenta, Bellaria, l'assenza di una commissione di una delega ingiunta, le pari opportunità. L'associazione Rimini ricama, annuncia che quest'anno la mostra in piazza Cavour non si farà troppo impegnativa spiega la rappresentante e a parte della provincia, nessuno aiutava. E con le iniziative per la festa delle donne è tutto, grazie per averci seguito a tutti e ancora l'augurio di una buona domenica.